Avrete sicuramente visto da qualche parte questa icona qua e per chi non lo sapesse è una delle app legate alla produttività e all'organizzazione più famose al mondo e dopo un anno che la utilizzo e diverse diverse ore spese ad imparare posso finalmente farvi un tutorial completo su Notion. Utilizzare Notion senza prima guardare un tutorial è un po' come giocare con i Lego senza il libretto delle istruzioni, infatti all'inizio è complicato, magari non si sa, non sfruttare al meglio tutte le possibilità che offre Notion, ma imparando si diventa pratico a sfruttare Notion al 100% utilizzando tutte le funzioni. Per chi non lo sapesse Notion è un editor di testo ed è diventato così famoso nell'ambito della produttività grazie allo spazio flessibile che offre a tutte le funzioni. Infatti su Notion come trovate sul loro sito si può fare di tutto, dalla bit tracker al calendario alle note e così via. Se qualcuno di voi ha mai scaricato Notion si sarà trovato davanti a questa pagina con un micro tutorial e probabilmente avrete chiuso l'app ed è installata, ma vi assicuro che dietro quella pagina praticamente bianca si nasconde un mondo che è incredibile. Ma direi che ho già parlato troppo, lanciamoci subito su Notion che vi faccio vedere di che cosa stiamo parlando. La prima cosa utile da sapere è la funzione di questa barra laterale, infatti vedete che è divisa in due in TeamSpace e Private. Nella parte Private trovate tutti i documenti vostri privati e come vedete sono diciamo la prima pagina perché voi potete creare pagine dentro pagine. E se volete vedere cosa c'è all'interno di questi documenti basta che premete questa fraccettina al lato e vedete si aprono le altre pagine. Io ce le ho sia qua che qua. E questo lo potete continuare a fare finché per l'appunto le pagine non finiscono. Per esempio questi sono i miei corsi dell'università. Invece nella parte superiore che è quella dedicata ai TeamSpace ci sono tutti i documenti condivisi con il proprio team. Infatti Notion è stato pensato per migliorare la produttività anche all'interno di aziende, di team, di startup e così via. Ah tra l'altro se lo avete ancora fatto mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale. Adesso vi faccio vedere un esempio pratico. Andiamo a creare una nuova pagina che sarà la nostra home, la chiamiamo home. E come vedete qua sopra possiamo aggiungere un'icona, per esempio l'icona di una casa. Così. E questa qui sarà la nostra home del Notion diciamo. Io non lo faccio così perché a me non piace molto farlo, preferisco avere tutti i file sulla barra laterale, però si può fare anche così. Andiamo a creare una empty page anche se ovviamente ci sono tutti 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 i template che Notion offre in modo gratuito e anche a pagamento li trovate su internet. E qui per esempio la prima cosa per cui potremmo sfruttare Notion è creare una pagina di note. Quindi semplicemente con lo slash che è diciamo il simbolo per iniziare un comando vedete ci sono tutte le funzioni che Notion offre. E noi andiamo a creare un'altra pagina che si chiamerà note per l'appunto. Ovviamente anche qui le aggiungiamo magari un'icona molto carina. Prima di creare il database vi spiego un attimo in realtà come funziona la home, mi sono perso un pezzettino. Diciamo che qualunque pagina su Notion non lo dovete vedere come una serie di blocchi che si uniscono. Infatti vedete che si crea questo rettangolo quando evidenziate. Se noi andiamo a creare per esempio un paragrafo, perfetto il nostro paragrafo è fatto, vedete che se io lo seleziono viene preso tutto assieme ed è un blocco. E una cosa che potete fare per esempio è mettere due blocchi uno di fianco all'altro spostandolo qua e mettendolo esattamente così. Poi se andate qua in alto nei tre puntini potete anche fare full width quindi viene espanso su tutto ed è molto più carino da vedere. Comunque stavo dicendo all'interno di Note noi andiamo a creare un database che è semplicemente una collezione di dati in modo organizzato. Per il momento faremo table view e adesso vi spiego anche cosa cambia tra le varie visualizzazioni. A me piace sempre mettere full width così si stretcia tutto su tutta la pagina. Ci sono due cose molto comode dei database. Tutte le proprietà che offrono che sono queste qui che vedete qua ai lati che sono veramente tante. E adesso vi spiego ognuna che cosa fa e poi i diversi tipi di visualizzazioni. Quando voi andate a creare un'altra visualizzazione dovete ovviamente riscegliere che database volete guardare. E se andate su edit view e su layout avete queste sei tipologie. La table è la classica quella che abbiamo visto prima. Poi c'è la board quindi vengono suddivisi i vari dati per una determinata proprietà che può essere per esempio adesso vi faccio vedere la mia task list. Questa qui è una board view con le cose da fare, le cose che sto facendo, le cose fatte e quelle senza stato. Come vedete poi basta strisciare questa diciamo pagina da un lato all'altro e gli cambia in automatico quella proprietà. Torniamo ai nostri tipi di visualizzazione, poi abbiamo la timeline. Questo serve quando per esempio abbiamo delle cose sul calendario, per esempio vi faccio vedere i video che escono dal mio canale. Come vedete sono disposti sulla timeline e questo è il 28 dove siamo noi oggi. Poi abbiamo la vista calendario che è praticamente come la timeline però su un calendario. La lista che sono semplicemente tutte le pagine una dietro l'altra che anche qua possono essere filtrate per una determinata proprietà. E poi la galleria. La galleria ragazzi io la amo perché è veramente troppo bella. Vi faccio vedere sempre con le mie note come è uscita la galleria rispetto ai miei video che è questa qui e vedete che sono suddivisi per mese e ognuno ha la sua copertina. Devo dire che è veramente soddisfacente vedere tutti i video così. Per fare questo ho semplicemente creato la galleria diviso per la proprietà della data e a ogni pagina gli ho aggiunto come background la copertina del video. Avere più di una visuale è molto utile se volete avere diciamo diverse tipologie di dati nella stessa pagina, nello stesso database. Come per esempio nelle mie note io ho sia cose dei video sia mie cose personali quindi ho una visualizzazione dedicata apposta agli script dei video, una visualizzazione dedicata alle cose dei video quindi idee, progetti e queste cose qui e poi una dedicata alle note private come fossero le note del telefono. Ovviamente nelle visualizzazioni di tabella e lista potete ordinare gli item come cavolo mi pare quindi secondo delle proprietà, secondo l'ultima data creata e così via. Detto questo vi ho parlato molto delle proprietà adesso vi faccio vedere in pratica che cosa sono. Andiamo a crearne una nuova anzi vi faccio vedere prima quelle che già ci sono impostate. Lo stato è semplicemente lo stato di questa attività andiamo a modificare la proprietà e andiamo ad aggiungere delle cose può essere fatto tipo da fare registrato da montare parlando di video no? Quindi magari il video è da montare gli si mette il tag da montare date qua premete qua e gli mettete da montare. Poi abbiamo le note che è semplicemente una piccola descrizione di quella pagina. Poi abbiamo la location che in realtà sono semplicemente le note con un altro nome e poi abbiamo la data che questa è una data che viene impostata da noi. Perché vi dico così? Perché se andate su più potete aggiungere altre tipologie di date. Infatti se scendete qua sotto abbiamo la data di creazione, la data dell'ultima volta che è stato modificato e poi ovviamente potete mettere anche l'ultima persona che l'ha modificato e da chi è stato creato nel caso magari di team space. Altre proprietà importanti sono per esempio il numero che serve per l'appunto per assegnare un numero a quella pagina. Nel caso del mio financial track il numero è magari un ingresso, un'entrata, una spesa. Poi abbiamo il select che è quello che si utilizza qua per lo status. Infatti qua questo status è stato fatto con un select ma in realtà c'è proprio la proprietà di status che è questa qui vedete. Not started, in progress e done. Probabilmente vi sarete chiesti cos'è la differenza tra select e multi select. Nel select voi potete selezionare solo una di queste tre opzioni per ogni singola pagina. Infatti se io vado qua e vi aggiungo un attimo la proprietà di select, datemi un attimo. Ok, questo qua select 2. Come vedete al file ciao io non posso dare sia la proprietà test 2 sia la proprietà test. Per fare questa cosa viene in soccorso la proprietà multi select. Ci dà la possibilità di dare due variabili alla stessa pagina. Infatti vedete posso metterli sia test che test 2 se funziona. Sì eccolo qua, test e test 2. Poi abbiamo la data che vi ho già fatto vedere prima. La persona, questo sempre molto utile nel caso di utilizzare il file in team space. Poi abbiamo files e media se volete diciamo allegare dei file o dei dati a quella pagina. Poi c'è il checkbox che serve magari per creare degli habit tracker che vi permette di diciamo eliminare cose da una lista. E poi per concludere abbiamo la formula. All'interno della formula voi potete sfruttare altri dati che ci sono nella pagina, nel database per creare cose. Per esempio vedete vi si apre questa schermata qua e voi potete usare tutti 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 questi dati e tutte queste operazioni per fare altre cose. Come per esempio nel mio scenario tracker questa formula va a calcolare il bilancio dell'anno, del singolo mese e così via. E come ultima cosa vi voglio spiegare il roll up e le relazioni. Sono un po' complicate quindi vi devo fare per forza vedere un esempio pratico. E ve lo farò vedere attraverso il mio financial tracker. Questo qua è un template come leggete dalla scritta quindi i dati che vedete non sono veri. E se volete scaricarlo anche voi lo trovate qua sotto in descrizione. È gratis, ovviamente completamente gratis quindi se volete scaricarlo mi raccomando andate qua sotto in descrizione. Come vedete qua ci sono un po' di tabelle. Per la precisione abbiamo una tabella dedicata al bilancio quindi è un database sul bilancio, un database sulle entrate e un database sulle uscite. Tutti questi database sono collegati attraverso le relazioni. Grazie a questa cosa io posso avere i database separati ed è uno dedicato al bilancio che va a prendere i dati sia dalle spese che dalle entrate e mi fa tutti i calcoli lui. Come potete notare infatti la relazione si indica con questa freccettina qua e abbiamo una relazione dedicata alle income e una relazione dedicata alle spese. Scusate se faccio metà inglese e metà italiano perché leggo alcune volte mi ricordo di tradurre altre no. E questa relazione la possiamo vedere anche nel database delle entrate e delle uscite. Infatti se andiamo qua sotto si collega vedete a balance anche qua a balance. Questo mi permette di collegare un file o una pagina. Io ragazzi questi due nomi li unisco perché alla fine nei database sono la stessa cosa. A un determinato anno per esempio questa cosa qua la colleghiamo al 2025. Questa qua magari è un'entrata dello stipendio di 1500 dollari. Qua gli potete mettere anche una percentuale di tasse se magari fate freelance in automatico poi vi va a calcolare vedete il final income con una formula. Infatti se li metto 20% il final diventa 1200 invece di 1500. Questo final income viene preso e spostato qua sopra infatti vedete che è apparso qua il nostro stipendio nel 2025. E invece qua con la lente d'ingrandimento segniamo un roll up. Il roll up serve per andare a prendere una proprietà da un altro database quindi diventa un po' complicato. Per avere il roll up ovviamente dovete avere una relazione in questo database del bilancio. E se premiamo sul roll up vi faccio vedere un attimo le impostazioni. È collegato alla relazione dell'income perché stiamo parlando del roll up dell'income. E la proprietà è final income quindi va a prendere dal database dell'income il final income da questa formula. E poi va a fare la somma di tutti quelli con il bilancio sul 2025. Quindi se io adesso vado a cambiare vedete qua sopra è 1200 se io adesso quello lì lo faccio diventare 2025. Ci mette un po' eccolo è apparso 1300 perché è cambiato è andato a prendere anche quel dato. E questa era la spiegazione abbastanza rapida ma devo ammettere che secondo me vi basta per iniziare a utilizzare le relazioni e i roll up. Torniamo al volo alla home perché sotto questa pagina ovviamente voi potete crearne altre sempre utilizzando così fate slash page e potete creare un habit tracker. Adesso lo prenderò dai template se ne trovo uno quindi cercate qua habit tracker e vedete come è già fatto tutto bello. E per l'appunto potete creare infinite pagine dentro le pagine dentro le pagine un po' come una matrioska. Eccolo qua si è creato voi avete il vostro habit tracker con già i bottoni. I bottoni sono una funzione che non vi avevo ancora spiegato quindi vi spiego in questo momento. Servono per velocizzare le tasche. Per esempio oggi sono andato a correre senza stare a qua a cercare il giorno a mettere correre. Basta mettere run today e in automatico dovrebbe aggiungersi. Esatto vedete non so perché si è aggiunto tutto comunque. Ah perché sono date a caso vabbè comunque se voi lo fate poi andate nelle impostazioni del bottone e gli dite chi volete aggiungere il running solo al giorno stesso. Comunque questi bottoni sono molto comodi per automatizzare le tasche e gli si possono fare una marea di cose. Potete creare pagine in altri database potete modificarle e aprire altre pagine potete aggiungere dei blocchi alla pagina attuale e così via. L'ho letto perché sennò questa frase non riesco mai a ricordarmela non mi ricordo mai che cosa fanno quei bottoni. E per farvi vedere l'ennesimo esempio pratico andiamo sempre sul mio tracker finanziario. Qua c'è l'year overall e come vedete c'è un bottone chiamato recurring income generator nel caso del salario. Vedete faccio così lo sposto e già ho creato il salario senza stare a mettere ogni singolo parametro. Per concludere questo video vi dico anche cosa potete fare a livello di testo. Infatti potete colorare il testo potete evidenziarlo potete farlo di diverse dimensioni e poi avete tre tipologie di liste diverse. La classica lista a puntini che è questa qui poi avete anche la lista numerata che è questa qui come vedete 1 2 3 e va avanti all'infinito. E poi la to do list ovvero la lista di cose da fare che si potrebbe utilizzare anche come habit tracker avete questo quadratino che potete ceccare con la spunta. In realtà c'è neanche un'altra che è la toggle list che non so tradurre in italiano ma semplicemente sì una lista è richiudibile ecco così si può tradurre. E voi all'interno potete scrivere altre cose esatto vedete e poi la nascondete. Se magari volete fare delle digressioni mentre state scrivendo o delle robe del genere. Detto questo ragazzi io vi ringrazio di aver visto questo video fino alla fine ho registrato questo video due volte perché la prima volta non mi piaceva assolutamente. E mi raccomando andate a vedere il video di mercoledì perché sto pubblicando due video a settimana. Quindi non perdetelo iscrivetevi per supportare il canale lasciate un like a questo video e guardate questi due video qua sotto. E niente noi ci vediamo settimana prossima anzi mercoledì con un prossimo video.